Ma se vi perdete qualche pezzo c'è anche il sito, è goodmorning.milano.it e se per caso volete riascoltare gli interventi dei nostri ospiti, bene, trovate tutto lì. Come ad esempio la nostra ospite che è collegata con noi, buongiorno alla consigliera Diana De Marchi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora ricordiamo il presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, spesso nostra ospite. Quindi Diana, buongiorno e grazie come sempre di accettare il nostro invito. È un piacere, è grande. E ho voluto interpretare, in realtà con te ci sarebbero tantissime cose da dire, è sempre bello, anzi poi ci racconterai un po' cosa state facendo perché so che avete tante iniziative, ti vedo in giro praticamente ovunque, quindi insomma stai seguendo davvero tantissime iniziative in quel di Milano. Ma nei giorni scorsi un po' ti sei arrabbiata forse a un eufemismo, poi ci dirai tu, perché insomma la tua collega di consiglio ha detto una cosa un po' particolare. Cos'è che ha detto precisamente? Com'è che è la storia che... Cioè io vorrei capire questa ossessione che hanno le persone per il capire quando una è donna davvero. Nel senso che nessuno mi è mai venuto ossessionato a chiedermi se io fossi un uomo davvero, no? Bravo, esatto. Beh questa è già la prima discriminazione evidente diciamo a tutti. Ma la consigliera è stata secondo me molto violenta e tutto il gruppo era naturalmente d'accordo e siamo rimasti tutti anche sterefatti dell'inopportunità e dell'oscurantismo delle sue dichiarazioni. Ma lì è successo che noi avevamo una commissione paesaggio, che tra l'altro è stata molto criticata giustamente perché per varie ragioni, tra cui soprattutto che non avesse componenti donne. E quindi l'assessore ci ha convocati, abbiamo lavorato, io ho lavorato tanto con lui insieme ad altri, la delegata del sindaco, a Sai che puoi, l'associazione, per fare in modo che questa cosa venisse riequilibrata. E quindi siamo riusciti a trovare una formula che dava il 40% di presenze nei criteri di selezione dei componenti della commissione paesaggio. Io poi ho fatto un emendamento per arrivare anche a un po' di più. Tra l'altro si parla giustamente non di donne ma del genere meno rappresentato perché fosse mai che invece ci sono più donne che uomini, che sarebbe una grande gioia per quel che mi riguarda, comunque ci serve un equilibrio, ma serve un equilibrio come nella vita di tutti i giorni, come chiediamo come commissione in tutte le azioni dell'amministrazione perché tu rispondi e devi avere uno sguardo di donne e di uomini e di generi proprio perché stai amministrando una città che è composta da più generi. E quindi devi ascoltarli, capirli e trovare anche delle azioni che vadano incontro ai bisogni che sono sempre bisogni diversi. Quindi l'emendamento era questo e sono riuscita a costruirlo in modo che desse anche una persona in più perché i membri sono 15, non potevo tagliarli in due, quindi non 7 e mezzo e 7 e mezzo, però con un criterio e con una modalità siamo riusciti a dire che si poteva arrivare a 7 componenti del genere meno rappresentato. Quando c'è stata poi la risposta per decidere di votare questo emendamento, la consigliera Giovanati ha detto che intanto bisogna capire quando si parla di donne e di chi si parla perché è difficile riconoscere delle donne, l'unico modo per sapere che sono donne davvero è se sono madri. Allora questa cosa è fuori dal mondo nel 2024, cioè non è questione di arrabbiarsi, è proprio che sei antistorica. e peraltro non solo stai discriminando tutte le persone che si sentono comunque donne a prescindere e questo è importantissimo, ma stai soprattutto tornando indietro rispetto a un concetto che è quello che ha visto le donne costrette a essere solo madri e quindi a non poter fare altro per tanto tempo. Per fortuna ci sono state donne prima di noi che hanno fatto delle lotte straordinarie, potentissime e questa cosa l'abbiamo superata e possiamo lavorare diciamo e non dobbiamo solo fare le madri. Quindi davvero si è riferita a qualche cosa che non è più nella quotidianità di nessuno perché sappiamo che la vita per fortuna è una vita più libera con tutti i condizionamenti e le fatiche che ancora abbiamo perché le donne comunque hanno una vita da equilibriste perché non riescono ancora ad essere libere nelle scelte professionali. Quello che ha stupito consigliera è che appunto non è stato il solito refrain del fatemi vedere la cartella clinica, fatemi vedere cosa c'è sotto la gonna, adesso la dico anche male. Siamo arrivati a una cosa che si aspettava nel senso cioè io sono accaduto dal pero quando ho detto una cosa del genere ma è possibile che ancora oggi qualcuno... Io guarda, sì, noi non ce l'aspettavamo soprattutto in questi termini diciamo che la destra è sicuramente più discriminatoria e quindi ha questa visione del passato rispetto ai ruoli che non possono cambiare che sono quelli appunto che ingabbiano le persone in certe condizioni specifiche, no? Questa è una cosa della destra, infatti tutto quello che è... Non posso credere che non ci sia una consigliera, non c'è una consigliera comunale che non ha figli ad esempio cioè non ci posso credere, cioè ci sarà almeno una consigliera comunale che non ha dei figli Ma certo, ce ne sono tante, infatti si sono ribellate assolutamente Ma peraltro la cosa che più stupisce è che un conto è la destra che sappiamo essere così Questa consigliera si è spostata e adesso è di Forza Italia Ora Forza Italia si fa riconoscere come più moderato nelle sue idee proposte Ecco, quindi mi domando anche questo Forza Italia sarà d'accordo su questa posizione? Non l'avete chiesto, non gli avete chiesto cosa pensavano le colleghe, i colleghi cosa pensavano? Eh non l'abbiamo ancora chiesto ma lo faremo lunedì perché è stato tutto alla fine del consiglio che bisognava votare perché c'è stata una lunga interruzione per arrivare a questo voto perché dovevano mettersi d'accordo, capire qual era il criterio per cui si era arrivati ad aggiungere una componente Insomma è stato travagliato Ha detto lo chiederemo lunedì perché lunedì cosa succede? Oggi pomeriggio c'è consiglio Quindi quell'emendamento è stato votato a prescindere da questa dichiarazione offensiva e medievale Quindi quell'emendamento è stato votato però oggi possiamo parlarne ecco diciamo proprio perché siamo in un'altra sede di consiglio anche se oggi abbiamo un consiglio un po' particolare perché essendo il 7 ottobre interrompiamo, iniziamo in anticipo e interrompiamo per poter andare in sinagoga chi vuole e ritornare ai lavori di consiglio Ok, oggi è il 7 ottobre infatti quindi è anche quella data Parliamo invece di cose un po' più piacevoli consigliera Allora, dove è stata questa settimana? Perché l'ho vista praticamente ovunque Mi dica uno dei luoghi so che faremo torto agli altri però una delle belle cose che è andata a fare questa settimana perché ho visto veramente tantissime belle cose Sì, beh forse la più bella è stata proprio ieri sarà perché me la ricordo meglio essendo stata ieri È come quando si va al ristorante che ci si ricorda il dolce perché è l'ultima cosa che si mangia Però in realtà no, ci tengo moltissimo perché ieri ho premiato io naturalmente la finalista però c'erano finaliste e finalisti della scherma per i non vedenti che è un torneo internazionale a cui tengo molto perché appunto quando parliamo di pari opportunità e diritti civili ecco, vedere sportivi che fanno di scherma che fanno il torneo che combattono davvero con una passione una capacità straordinaria ti fa capire che davvero tutti possono fare tutto quello che desiderano se li metti nelle condizioni di farlo ecco, io credo che queste siano le pari opportunità concrete quelle per cui ci battiamo tutti e ieri è stato molto emozionante poi appunto davvero è una gara molto sofferta e poi io ricordo la prima volta quando ho partecipato che mi è sembrato incredibile adesso mi sembra assolutamente normale cioè è un torneo come tutti gli altri e questo è un pezzo appunto di cambiamento credo anche della nostra città ma in generale della cultura sul quale bisogna andare avanti ma che già ha fatto un pezzo di strada ecco, credo che quella sia stata la cosa più bella abbiamo visto anche con le Paralimpiadi di questa estate insomma come davvero ormai ci stiamo facendo l'abitudine a vederli come degli sport punto e non come invece altro quindi insomma è molto importante questo e tra l'altro loro stanno lottando per entrare nelle Paralimpiadi perché non ci sono ancora ottimo, ottimo, ottimo la scherma per non venentino no, la scherma per non venentino non c'è ancora esatto, la scherma c'è un progetto che danni sta seguendo che voglio sapere come sta andando quello dei nomi delle vie, delle piazze nomi femminili sta andando bene? come sta andando? sta andando benissimo non so se avete un po' visto ma la città davvero sta intitolando giardini anche con intitolazioni plurime per fare appunto non so, le scienziate insieme due o tre come hanno fatto nell'ultimo giardino di Municipio 1 insomma ci sono veramente tante realtà che si stanno muovendo e soprattutto i municipi stanno scegliendo e condividendo col territorio quali sono le donne io credo che sia questo un po' il risultato perché non è solo la via ma è capire perché raccontare la storia conoscerla e diffonderla di queste donne che ci hanno aperto la strada quindi adesso io devo presentare invece questa è una aggiunta un ordine del giorno che ho pensato di proporre sulla intitolazione delle fontane di alcune fontane un po' perché non ci bastano nei giardini e nelle vie ma poi perché mi piace molto l'idea dell'acqua che è libera come appunto tutti noi vogliamo che siano libere le donne di fare quello che desiderano della loro vita e quindi l'acqua dà un po' quel senso e quindi la fontana mi sembrava che potesse essere un altro elemento da intitolare simbolicamente molto legato al senso dell'intitolazione molto bello come senso anche allora consigliera io la ringrazio tantissimo davvero per il suo contributo di questa mattina noi siamo già arrivati alla chiusura di questa puntata quindi io la ringrazio e insomma spero di vederla ancora in giro che insomma sia sempre in giro in giro sempre anche da voi volentieri ecco bene bene allora ti aspettiamo qui allora dai facciamo così va bene buona giornata la consigliera De Marchi grazie mille di essere da qua con noi questa mattina continuiamo con un po' di musica e poi veniamo a chiudere perché manca veramente poco stiamo parlando di Dungeon d'Amico con Dove Si Balla grazie mille Grazie a tutti.